TG Web di giovedì 29 novembre, ben ritrovati a tutti quanti voi, subito con la cronaca. Sarebbe stato fermato dalla polizia il presunto responsabile dell'incendio scoppiato a Senigallia nella palazzina di Via del Molinello, prese di mira Nives Bigelli, imprenditrice del Marmo. Secondo indiscrezioni, gli agenti del commissariato di polizia sono sulle tracce di un uomo. La pista seguita è quella sentimentale, nonostante nei volantini lasciati dall'attentatore comparivano riferimenti all'attività imprenditoriale della donna. Le forze dell'ordine hanno subito iniziato le indagini a tutto campo, concentrandosi sulla sfera proprio personale. Nel TG di domani vi daremo ulteriori sviluppi e nella trasmissione 7x4 di domenica alle 15.30 su TV Centromarche ci sarà proprio l'approfondimento. Il gruppo consigliare del Partito Popolare Europeo ha deciso di ritirare la mozione di sfiducia presentata verso l'assessore al bilancio Paci e ha abbandonato i lavori del Consiglio Comunale di ieri sera. Tale decisione è stata maturata dopo che la maggioranza di centrosinistra ha deciso di non sottoporre al voto segreto il documento. Si svolgerà domani venerdì 30 nella sala consigliare Arnaldo Ciani del Comune di Corinaldo, il Consiglio Comunale. Il sindaco Matteo Principi ha convocato in sessione straordinaria il civico consesso per le 21. Tra i punti è l'ordine del giorno, esame, approvazione dell'assestamento al bilancio di previsione 2012, approvazione protocollo di intesa, programmatica con l'associazione Proloco di Corinaldo per la gestione coordinata dell'ufficio IAT. Nuovo parco fotovoltaico a Dostravetere. Vediamo. Inaugurazione a Dostravetere di tre nuovi impianti fotovoltaici destinati alle tre scuole cittadine e situati nell'area pubblica che l'amministrazione comunale ha dedicato interamente a parco fotovoltaico. Attraverso gli introiti che ci saranno per quanto riguarda l'acconto GSE, noi utilizzeremo quelle risorse per riversarle naturalmente nel territorio con interventi che vanno sempre comunque a favore della comunità e della qualità della vita del nostro territorio. Il parco fotovoltaico intanto è stato realizzato su un'area pubblica dove prima era presente una discarica e in più questo parco fotovoltaico ha anche al suo interno un bosco urbano dove si possono realizzare tantissime iniziative anche addirittura con le cuole. Venerdì 30 novembre alle 18 presso i locali del Circolo Acli Umberto Ravetta di Via Cavallotti a Senigallia si terrà un incontro sul tema a 50 anni dal Concilio Ecumenico Vaticano II. Il relatore sarà Monsignor Giuseppe Orlandoni, Vescovo di Senigallia. E ora parliamo del prossimo servizio di Asili Nido. Presentato a Senigallia il servizio di Asili Nido domiciliare e il relativo corso di formazione per gli operatori organizzato dall'Associazione Genitori Senigallia AGE. Si tratta di un'opportunità di poter ampliare i servizi per la fascia di età 0-3 anni sul nostro territorio attraverso la creazione di nidi domiciliari, quindi di nidi fatti in casa da persone che abbiano ottenuto una qualificazione in strutture adeguate. Il Comune partecipa a questa iniziativa nell'ottica di differenziare sulla base delle esigenze familiari le strutture sul territorio e accompagna l'AGE in questa intrapresa garantendo che tutti quanti i requisiti organizzativi, strutturali e di formazione siano tutti quanti rispettati. Il presidente AGE di Senigallia, Alberto Di Capua, spiega che ci sono due tipi di corsi per operatore di Asili Nido. Nel caso la mamma non abbia un titolo di studio attinente all'attività, quindi con semplice diploma di scuola media superiore deve fare un corso di formazione di 400 ore oppure una mamma che abbia invece un titolo di studio adeguato basteranno solamente 88 ore. Per cui chiaramente i due percorsi sono fondamentali per essere qualificati e successivamente poi c'è tutta la trafila burocratica e le caratteristiche che deve possedere la struttura che ospiterà massimo 5 bambini da 0 a 3 anni. Una nuova e importante collaborazione è stata siglata tra il tennis tavolo Senigallia e l'istituto alberghiero Panzini per la pratica sportiva del tennis tavolo in orario scolastico ed extrascolastico. In particolare l'accordo è rivolto agli studenti delle prime classi a fronte di un articolato progetto che vede artefice il professor Luciano Di Rosa. Era l'ultima notizia, ringrazio Michele Manoni per la regia e l'assistenza tecnica e l'appuntamento è per la prossima edizione. Grazie a tutti.